Grazie. Allora, ultimo tranche di premiazioni, vi chiedo ancora un attimo cortesemente la vostra attenzione. Allora, eccoci qua. Allora, volevamo dare un ricordo agli amici dell'Alfa Romeo Club Slovenia. Se una delegazione dell'Alfa Club Slovenia si sono fatti tantissimi chilometri anche loro per essere qua con noi. Quindi, terzo anno consecutivo, we are very happy. Oh, fantastico! Oh, wow, wonderful present. And this is for you, Esther. Grazie, Esther, dell'aiuto. Please. If you want, let me help you. Buongiorno a tutti. Scusi, io non parla italiano. Allora. I will say something in English. Thank you, Mr. Rodolfo. And thank you to Stila Alfa Romeo for organizing this great event. It is always nice to see so many Alfa Romeos and especially the older models, which we miss so much. I would like to wish you a good evening further and also, in the name of Alfa Club Slovenia, invite you to our biggest event that is probably going to be around in May. Please follow our Facebook page where all additional information will be forwarded. Thank you, and we'll see each other in the next meeting. Grande applauso. No, ok, vabbè, vabbè, è sentato. Forse le bacia tutte, eh. Lui non fa i discorsi, ma se le bacia tutte. Lei è Esther, ci ha aiutato tutto il weekend. È brava, è brava. Nuovo acquisto, questa è una forza. E adesso, sapete già chi manca da premiare, un club particolare, il club col quale siamo più in affinità di intenti, gli amici di Squadra Moravia della Repubblica Ceca. Grande crasta. And Pavli, Pavli non come for the pricing? Pavli, come here, Pavli, come here. Pavli. Pavli. No, 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 no. Also, speech, you speak perfectly. Giorgio, this year, Giorgio. Giorgio. Ok, Giorgio. Buongiorno tutti. But this is the only one thing I know in Italian, so let's switch to English. I would say a warm welcome as well. And really, really, really help this event to be here. Thank you, thank you, Rudy, for invitation. This year was really challenging. We are really glad that this event is as well for us a must event, I can say. A lot of people from here have already visited us in Czech Republic, it was as well a really good event, thank you for your participation. Maybe next year, maybe next year will be as well, who knows, who knows, never knows. You know, Squadra Moravy has every time something special. So this is Pavli, this is our flying carpet or whatever. No, really, really, thank you for this, for this event. This is for us, let's say, closing of international seasons. Sorry, so sorry for this. No problem, it's our interruption. Thank you very much. Thank you, all Squadra Moravia. Krasta. Superstar. Okay. And this is a little prize for you. Grande, Giorgio. Le premiazioni sono finite. Abbiamo cercato di lasciare un ricordo a quanti più possibili di voi. Però prima del taglio della torta, vorremmo lasciarvi con qualcosa che un omino là dietro, dietro lo schermo, ha lavorato incessantemente e non ha neanche pranzato per potercelo regalare. Voi siete stati presenti, avete animato questa due giorni del Gran Galà, ieri con la serata di vigilia e oggi con il raduno vero e proprio. Io invito la regia, se sia possibile, a far partire il video del Gran Galà 2018. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'ultimo. Ringrazio le nostre hostess, Anna e Ivana. Ringrazio Esther. Ringrazio le ragazze dell'accredito. Marika, Paola, Vanessa, Betta, la Simonetta. Ringrazio i nostri fotografi, l'Antonella, Giuseppe. Spero di ricordarmi tutti. Alfonso. Ringrazio Dario. Ringrazio... Non mi ricordo più perché sto diventando vecchio rincoglionito, scusatemi. Ma li ringrazio tutti. Ringrazio Brandy che dietro ha saputo montare il video in un paio d'ore, tre ore alla grande. Ringrazio il Dogo. Ringrazio David, in special modo. Ringrazio i nostri motociclisti, la nostra scorta motociclistica senza la quale noi non saremmo stati messi in sicurezza nell'attraversamento degli incroci. Ringrazio qualsiasi singola persona, Alessandro, Roberto, tutti, Gianluca, ogni singola persona. Addirittura abbiamo avuto dei bambini che hanno lavorato per stile stamattina nel gonfiare i palloncini. Quindi ringrazio anche i bambini, veramente. Io ringrazio tutti. Ringrazio tutti voi che avete partecipato perché, ripeto, e voglio concludere come ho iniziato prima, cento equipaggi che in realtà sarebbero di più, ma ci teniamo sui cento, sono tanti, sono un'enorme soddisfazione che ci spingono e ci motivano a far ancora di più e ancora meglio per gli anni a venire. Vi ringrazio, vi ringrazio anche per la passione che esprimete nei confronti di questo marchio, che non è un brand, è una cosa che sia dentro e come è stato detto in altre occasioni, soltanto chi guida e chi possiede un Alfa Romeo sa esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi per tutte queste motivazioni io vi chiedo solo un'ultima cosa, un grande applauso anche a voi stessi. Grazie. Sono smemorato, sennò poi la betta mi ammazza. Invito tutti quelli che devono ancora ritirare la chiavetta, che l'hanno prenotata, ad andare in fondo al banchetto della Sintoflon. Grazie e con questo ho finito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.